Con una considerazione che credo importante, credo che questa sia la sala giusta signor sindaco per farlo, signora sindaco per farlo, perché questo è un territorio meraviglioso del nostro Piemonte, Pornia è una città importante, che si apre su un territorio lontano altrettanto splendido, ma ha bisogno di attenzione. Noi abbiamo un tema, come voi sapete, che dopo il Covid è diventato un tema sempre più delicato, che è quello della sanità e quello del diritto alla salute. Noi dobbiamo garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini che abitano alla crocetta a Torino o che abitano in un comune, soprattutto nelle nostre montagne. Per fare questo dobbiamo avere dei presidi che funzionino. Ed è questo il motivo per cui, lo dico qua adesso perché è stata ed è una delle delle battaglie principali, io volevo comunicarvi che l'8 gennaio del 2024, quindi tra pochi mesi, riaffrirà H24 il pronto soccorso di Porniai, dando 20 euro a Roma. Sono contento di questa reazione, non potrebbe esserci una reazione più bella e che mi fa capire a me, a Mauro Fava, che ha anche lottato per questa determinazione e questa era una scelta giusta ed era una scelta da fare. Però se ci riusciamo è perché tutti insieme abbiamo fatto la nostra parte, iniziando dal nostro sindaco, dall'amministrazione comunale, dai sindaci del territorio, tra tutto l'area del Corvo, anche gli investimenti che confermiamo sia su Livrarolo che su Castellamonte per quanto riguarda gli ospedali e la casa di comunità, perché il Covid ci ha insegnato una cosa, noi nella Lange diciamo la salute è una da nascar sera, cioè che quando si parla di salute si parla di una cosa seria, la cosa più importante che abbiamo e noi non potevamo non garantire a chi vive in questa terra di avere la possibilità di un presidio reale, sarà reale, cioè H24, pronto soccorso, vero e proprio e dotato di tutte le strutture e i servizi che sono necessari per finirsi pronto a soccorso. Questo è un segnale che vi facciamo e di cui... Tanti amici pertanto e arrivederci perché vengo anch'io con la mattina lì, a Controlet, 8 gennaio 2024, ed ora pensiamo solo più agli alpini e ai tanti membri che hanno nel nostro grazie. Grazie. Grazie.